Il 4 settembre è stato presentato il quesito referendario per ridurre il periodo di residenza legale in Italia necessario per richiedere la cittadinanza. Che cosa stabilisce Cora la normativa vigente e qual è la vostra proposta? La proposta e il quesito per il quale si battono tutte queste associazioni che ci stanno aiutando sia a livello nazionale che su Fano e anche più Europa è quella appunto di ridurre gli anni di permanenza da 10 a 5 per poter richiedere, iniziare il percorso di richiesta di cittadinanza. Il resto resta invariato, cioè tutti i requisiti di essere cittadini che conoscono la lingua, che sono lavoratori qui in Italia e che hanno un lavoro adeguatamente retribuito, che non sono andati a delinquere, tutto resta il medesimo. Però questo è una battaglia assolutamente importante, una battaglia che noi reputiamo non tanto morale quanto giusta ed etica perché se qualcuno viene nel nostro paese con il suo lavoro, con i suoi contributi, contribuisce a far crescere il paese, è giusto che ne faccia parte nei doveri e nei diritti. Ed è giusto che questi si estendano anche ai figli minori, perché ricordiamoci ci sono molti ragazzi che sono da più anni in Italia rispetto al loro paese di nascita, ma non hanno gli stessi diritti. Questo significa che non possono rappresentare la nazione in cui hanno scelto di crescere ai giochi olimpici, nazionali, internazionali, non possono percorrere dei percorsi di studio anche a livello internazionale, facendo comunque sempre sede in Italia. Questi sono dei diritti che vengono negati. L'altra cosa che vogliamo ricordare è che nel 2050 ci sarà un grosso problema demografico perché arriveremo al pareggio tra cittadini dal punto di vista lavorativo inattivi e attivi. Questo significa che per sostenere e far crescere il nostro paese nella spesa pubblica e anche in quelle che sono tutte le misure sociali di emergenza abbiamo bisogno di allargare la cittadinanza. Altri grandi paesi europei lo hanno fatto, tutti gli altri, e noi con il nostro 4,2% di cittadinanze riconosciute non siamo assolutamente ai primi posti, anzi siamo dietro Romania, Svezia, Paesi Bassi e tanti altri paesi. Quindi è una battaglia che deve essere levata da il buonismo o dall'opposizione estrenua. Deve essere una battaglia razionale ed etica. Andate a firmare, basta avere SPID o CE, andate sul sito www.referendumcittadinanza.it e potete votare per far sì che il quesito referendario passi servono 500.000 firme. Scade il 30 settembre, ci possiamo riuscire, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per una battaglia giusta ed intelligente.